Abbiamo anche in qualche modo un po' rubato il titolo a un format importante, bellissimo, che ha pensato il giornalista Emilio Casalini, che è collegato con noi in rete. Buongiorno Emilio Casalini, di Casalini si potrebbe dire tanto, non è un semplice giornalista, è stato un reporter in situazioni di guerra molto complesse, Kosovo, Jugoslavia, Congo, ha fatto delle inchieste interessantissime sui rifiuti e sul traffico dei rifiuti, è stato un giornalista di punta di report, giornalista di inchiesta, di razza di quelli che ci servono per capire qual è la verità. Quali sono le verità in un mondo di fake, però Emilio Casalini nell'ultimo periodo si sta concentrando sulla bellezza. Ti do del tuo Emilio, buongiorno, ti senti offeso che abbiamo chiamato questa iniziativa? E Claudia Paltrinieri, Daniele Messina sono dei ragazzi un po' originali. Ristorazione e bellezza, oggi vedi un nesso. Buongiorno a tutti, è un onore, una gioia, un piacere e un onore perché, ma stai scherziamo, quando l'ho visto c'è proprio un grandissimo piacere e c'è un'assonanza perfetta. Anzi, il tema della mensa era una cosa che io volevo affrontare da tempo perché non la conosco e nell'affrontare, io ho avuto il privilegio l'anno scorso di partecipare alla Biennale di Architettura di Venezia, esponendoli, e quando parlavo con le persone per spiegare le connessioni sui territori, facevo sempre questo esempio perché è facile vedere le connessioni nei territori tipo, non so, a Siena vedi facilmente la connessione tra arte, cultura, turismo, ma come fai a vedere la narrazione dei territori in una periferia urbana? Dico, come fa a arrivare la narrazione, lo storytelling di un cibo, di una memoria, di una tradizione in una periferia o in un comune lontano, non quelli bellissimi, eccetera? L'esempio che facevo sempre era quello della mensa, il portale per arrivare alle persone, a milioni di persone, era la mensa, quindi intanto io vi ringrazio perché mi avete aperto la possibilità di entrare dentro a un mondo che mi affascina, di cui conosco poco, e che invece da quando sono stato un po' anche contattato ho incominciato a ristudiare bene, spero anche di potermene occupare, il programma riprenderà, avremo altre 24 puntate, quindi raddoppiamo quasi, perché è andato molto bene, e quindi io spero proprio di potermene occupare, credo anzi proprio di potermene occupare anche di questo argomento, perché è strategico. E quello che raccontiamo nel programma sono storie di persone che seguono un sogno, seguono un'idea di quando gli dicono tutti, ma cosa stai facendo? Non funziona, sei pazzo, non ce la farai mai, eccetera? Questi qui vanno avanti con la propria strada e tracciano un sentiero nuovo. E queste sono storie che hanno impatto sul territorio, anche voi raccontate questo, storie che impattano sugli altri e che accrescono la consapevolezza del valore di quello che abbiamo intorno. E quindi io sono intanto affascinatissimo, io oggi purtroppo sono una giornata bruttissima, cioè no, bella perché devo andare, sono in giro per la Sicilia, devo andare a degli incontri, quindi è bello questo. Però, quindi non posso partecipare perché avrei voluto essere di presenza o almeno ascoltarlo, però un pochino riuscirò a seguire. E comunque in realtà mi terrò aggiornato su tutto perché sono interessatissimo a quello che fate. Siete, l'argomento è un po' minoritario, no? Mi prendo solo un minuto per dire una cosa, perché sembra che non siete al centro, cioè il discorso della mensa e del cibo. Il cibo un po' meno, ma solo della parte di MasterChef, dei grandi ristoranti, così. Mentre tutto quello che il mondo è fantastico perché poi milioni di persone, a partire dai nostri figli, ma non solo, alle mense del lavoro, le mense... Io penso a quanti giornalisti vanno a mangiare nella tristissima mensa della Rai, dove per ogni anno tutte le mense, ce ne sono 5-6 solo a Roma, si nutrono, la più grande azienda culturale italiana si nutre di qualcosa, ma non c'è nessuna connessione, nessuno mi frega niente di raccontare che cibo c'è, da dove viene, chi l'ha prodotto, zero. Ed è un peccato, io per anni sono andato appunto a quasi interno Rai e quindi frequentavo dentro, adesso sono un pochino più fuori, però mi domandavo sempre ma perché non riusciamo a usare questo strumento per raccontare il cibo? Perché non usiamo quel momento in cui ci nutriamo per crescere, accrescere la consapevolezza del valore di noi stessi e di quello che ci circonda? E quindi la mensa diventa uno straordinario connettore di elementi spuri che sono... Noi oggi lavoriamo sempre per cluster chiusi, chi si occupa di turismo, chi si occupa di cultura, ecco, spesso cultura e turismo si snobbano, no? Perché il mondo della cultura dice che brutto, che schifo, i soldi, noi non ci portano i soldi, brutta roba, business del turismo, invece quelli del turismo dicono vabbè che vale la cultura, eccetera, eccetera, e l'architettura va per i fatti suoi, l'agricoltura va per i fatti suoi, l'archeologia va per i fatti suoi, ed è un dramma perché in realtà tutto è connesso e noi avremo la possibilità di connettere tutto, però non lo facciamo perché ci spaventa la complessità e quindi non affrontiamo il tema di collegare tutto perché poi diventa difficile a gestire, invece dovremmo avere un po' più di coraggio e quindi quando affrontare la complessità di connettere, voi lo state dimostrando, perché parte delle vostre storie che oggi affronteremo, affronterete e quindi ascolteremo anche insieme, sono connessioni tra il mondo dell'agricoltura, una parte di narrazione, il mondo della crescita personale, anche del capire quanto valore ha tutelare quello che abbiamo, quindi io credo che sia straordinario quello che state facendo. È un periodo molto bello questo, interessante, difficile perché la pandemia ci ha schiacciati, ma ci ha fatto anche riscoprire tante priorità, la prima delle quali io lo avevo anche come progettista culturale per il motivo per cui sono qui in Sicilia e lo vivo dal punto di vista del narratore televisivo, al centro di tutto c'è la comunità e questo è strategico oggi, è fantastico. Il bando del PNRR ha messo sui piccoli borghi, ha messo al centro le comunità. Se noi riusciamo a metterle al centro le comunità, anche nelle zone marginali apparentemente, che sono le periferie, le cinture urbane, i comuni lontani dai meccanismi che funzionano, possiamo davvero migliorare la nostra vita e questo tassello della mensa, considerando i numeri di cui oggi parlerete, dei milioni di persone, di pasti che vengono dati ogni giorno e dell'insegnare la qualità è un elemento straordinario. Quindi io vi ringrazio di avermi coinvolto, sono attentissimo a quello che succede, curioso, vorace di conoscere e entusiasta di stare anch'io un piccolissimo pezzo assieme a voi.